Un saluto a tutti gli amici social, sono in Smart Fitness sulla scala, stiamo iniziando il mio riscaldamento. Oggi domenica mattina e come tutte le domeniche mattina voi cosa fate? Beh, c'è chi dorme, c'è chi fa altro e c'è chi va in paletta ad allenarsi ovviamente. Siamo qua in Smart Fitness perché, come vi abbiamo spiegato anche nelle puntate precedenti, abbiamo creato una triangolazione fra la New Dance Club ASD rappresentata da me, la Smart Fitness rappresentata da Rossana e la MTF di Seragna rappresentata dal personal trainer Marco Rossi. Ci vediamo durante e a fine allenamento. Per il mio outfit di oggi, leggings on 95, top Freddy, canotta Decadron, ma soprattutto leggere bene la scritta. Pole Silk, ovvero il corso per il quale sono tecnico formatore nazionale per la AGM Design di Pole. Prossimamente, sui migliori schermi. Grazie. Grazie. Lavoro funzionale interpellato a lavoro cardiaco e Marco mi ha minacciata, mi fa fare le ripetute. Io ho chiesto uno sconto e mamma ha detto vediamo e io da donna so che vediamo significa no. Cioè di solito sono io a minacciare gli allievi e a far fare loro quello che voglio e da qualche tempo succede invece che è Marco a farmi fare quello che vuole lui e io devo obbedire, non mi piace tanto questo ribaltamento dei ruoli. Per chi non avesse capito Marco mi ha imbrogliata. Mi aveva permesso solo una serie di ripetute e adesso mi ha minacciata di fare ancora del cardio e mi sta dicendo di correre. Insomma, ma le donne non c'è più rispetto.